Nei giorni scorsi la polizia di Catania ha arrestato un catanese di 29 anni gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I falchi della squadra mobile etnea sono entrati in azione nel quartiere Picanello dove durante un servizio di pattugliamento finalizzato alla repressione dei reati inerenti al traffico di droga hanno notato il giovane peraltro già noto per precedenti specifici. Alla vista dei poliziotti il sospettato ha tentato di sfuggire al controllo salendo in sella al suo scooter. Gli agenti però non si sono fatti sorprendere e lo hanno immediatamente raggiunto e sottoposto ad accertamenti. Durante le operazioni di identificazione il 29enne ha mostrato segni di insofferenza e preoccupazione cosa che ha maggiormente insospettito gli agenti che hanno quindi deciso di approfondire il controllo effettuando un'ispezione dello scooter. E infatti a bordo del mezzo sono state rinvenute diverse dosi di droga pronte allo spaccio. Visto l'esito positivo del controllo è scattata anche la perquisizione personale a carico del giovane a seguito della quale è stata rinvenuta una cospicua somma di denaro ritenuta a provento dell'attività di spaccio. L'arrestato è stato ristretto ai domiciliari presso il proprio domicilio.